Salve, oggi vedremo un progetto molto semplice collegheremo due sedi remote attraverso una VPN di tipo OpenVPN Site to Site utilizzando chiaramente i nostri firewall PFSense virtualizzati in strutture SXI di VMware vi chiedo scusa in anticipo per la qualità del video perché presenta alcuni problemi di flickering dovuti allo screen recording effettuato su desktop remoto Buona visione Quello che vedremo oggi, come abbiamo sentito precedentemente è la creazione di una VPN di tipo OpenVPN tra due sedi distaccate una sede principale e una sede remota che poi è quello che abbiamo affrontato come argomento nel caso reale visto precedentemente relativo al tutorial 31 quindi abbiamo una sede principale e una sede secondaria entrambe corredate da un server VMware SXI all'interno del quale c'è un firewall PFSense che nel nostro caso sono stati entrambi aggiornati alla versione 2.0.2 in macchina virtuale quindi entrando più nello specifico come vediamo in questo caso questo disegno mostra l'indirizzamento presente sia nella sede principale che nella sede secondaria la cosa importante è che l'indirizzamento utilizzato nella sede principale sia differente da quello usato nella sede secondaria e l'altra cosa molto importante sono i router nel nostro caso di specie abbiamo dei semplicissimi router forniti direttamente da Telecom i quali sono stati chiaramente modificati a livello di configurazione in modo molto molto semplice abbiamo disabilitato la funzione di firewall e abbiamo reindirizzato chiaramente tutte le richieste di porte verso la WAN del PFSense creando una vera e propria zona demilitarizzata quindi in questo caso avremo chiaramente che tutte le nostre attenzioni saranno dedicate direttamente sul firewall e quindi sapremo con certezza che il router non abbia creato alcun ostacolo il primo step da affrontare è la configurazione del PFSense all'interno della sede principale le immagini risulteranno piuttosto scattose perché stiamo facendo uno screen recording di un desktop remoto proprio per garantirvi che quanto vi stiamo dicendo corrisponda a verità come si può verificare la versione del nostro PFSense è la 2.0.2 in questo caso a 32 bit andiamo subito a creare andiamo subito nella VPN in OpenVPN in questo caso è stata già creata dobbiamo andare a verificare tutte le caratteristiche e le configurazioni utilizzate la parte più importante è la server mode che deve essere di tipo peer-to-peer shared key a chiave condivisa dove la condivisione della chiave avviene attraverso un canale molto molto sicuro che il nostro solo noi in pratica utilizzeremo copieremo la chiave e la inseriremo all'interno dell'altro PFSense il protocollo da utilizzare noi abbiamo utilizzato il TCP in quanto l'UDP creava dei piccoli problemi ai tronchi asterisk e soprattutto nel collegamento di due asterisk presenti nelle sedi nelle due sedi quindi avevamo visto che questo collegamento spesse volte saltava e la qualità era molto bassa con il protocollo TCP la storia è completamente cambiata è chiaro che se qualcuno ha da ridire su questa nostra scelta di configurazione può chiaramente farcelo sapere sarà un bene per tutti il confronto la porta da utilizzare lasciamo la 1194 la descrizione deve essere di tipo univoco lasciamo site to site per quanto riguarda la shared key la chiave è condivisa in questo caso viene subito visualizzata ma voi non la visualizzerete in fase di creazione della VPN la potrete solo visualizzare dopo che avete creato e avete in pratica inserito tutte le configurazioni riaprendola non dovete fare altro che selezionare tutta la shared key per copiarla inserirla all'interno di un file di note e riutilizzarla chiaramente nel PFSense relativo alla sede secondaria dopo vedremo come fare l'algoritmo di critazione noi utilizziamo il BF CBC a 128 bit non molto pesante non abbiamo un hardware che ci consenta un'accelerazione crittografica iniziamo con le parti più importanti che sono il tunnel network dove dobbiamo andare a inserire un Sump Range non usato in entrambe le sedi quindi in questo caso abbiamo utilizzato il 192.168.100.0 e la rete locale invece è 192.168.00.24 invece la rete remota come abbiamo visto precedentemente nella mappatura di rete è 192.168.10.0.24 a questo punto possiamo solo decidere se abilitare o meno la compressione e salvare il tutto ora che abbiamo simuliamo di aver creato ad hoc la nostra configurazione dobbiamo rientrare per poter selezionare chiaramente la chiave da utilizzare per il per il secondo PFSense e la posizioniamo all'interno chiaramente di un block note dopo averla selezionata all'interno di un block note ce la possiamo chiaramente inviare in email o attraverso chiaramente un mezzo più sicuro la dovremo inserire successivamente all'interno del nostro del nostro secondo PFSense la possiamo salvare con nome chiaramente sul desktop dopo averla salvata non dobbiamo nient'altro che andare nella sezione Firewall all'interno della sezione Firewall nella One abbiamo creato una regola in questo caso il protocollo da utilizzare lo possiamo lasciare a TCP una regola che faccia passare una regola un po' aperta che faccia passare tutto sulla porta di destinazione di tipo OpenVPN eccola qui ultima modifica da portare è relativa sempre alle regole del Firewall sulla OpenVPN qui siamo stati un pochino aperti totalmente poi pian piano se nascono particolari esigenze si chiudono determinate porti o si creano delle regole più restrittive ma il compito iniziale è quello di garantire che il collegamento avvenga e poi successivamente si può passare alla chiusura pian piano di tutte le regole quindi abbiamo lasciato un po' tutto aperto al fine di garantire il collegamento eccolo qua quindi la prima fase quella del server è completamente terminata ora non ci resta che salvare la nostra chiave condivisa per poterla poi riutilizzare nella fase successiva dopo aver effettuato l'accesso remoto alla sede secondaria e dopo aver recuperato la chiave condivisa non dobbiamo fare nient'altro che aprirla tasto destro copia quindi selezionarla tutta e copiarla in memoria affinché la possiamo utilizzare nella fase di configurazione del client OpenVPN quindi entriamo loghiamoci nel nostro PFSense e in questo caso vediamo effettivamente che la versione è la 2.0.2 e come preannunciato si tratta effettivamente dell'HP del microserver in quanto lo vediamo tranquillamente ha un AMD Turion un processore di tipo dual core ma passiamo subito alla configurazione della nostra VPN di tipo OpenVPN andiamo nella sezione client e andiamo ad aprire la configurazione utilizzata quindi non dobbiamo fare nient'altro che ripetere tutti i passi visti nella configurazione relativa al server utilizzando le stesse caratteristiche quindi come server mode avremo peer to peer in shared key a chiave condivisa il protocollo sarà di tipo TCP abbiamo la local port la lasciamo vuota obbligandolo ad usare una porta dinamica a caso nel server host andiamo a inserire chiaramente l'indirizzo IP fisso della DSL della sede principale la server port è molto importante che dobbiamo ripetere quella inserita nella configurazione del server lato server che è la 1194 nella shared key che nella prima configurazione voi la troverete completamente vuota non dobbiamo andare a fare altro che tasto destro e incollare quella che effettivamente abbiamo selezionato e copiato nella fase iniziale l'algoritmo di critazione e il BFCBC a 128 bit identico a quello usato nella configurazione iniziale come nella precedente non abbiamo usato alcun hardware per l'accelerazione ora nel tool network dobbiamo mettere 192 168 100.0 slash 24 che il sub range non utilizzato in entrambe le le sottoreti remote network e la LAN della sede principale 192 168 0.0 slash 24 e abbiamo finito non dobbiamo fare nient'altro che salvare la nostra configurazione dopo aver salvato la nostra configurazione non dobbiamo fare nient'altro che andare in firewall nelle regole e andare direttamente nella nostra openvpn come visto precedentemente converrebbe nella fase iniziale andare a tenere tutto aperto nella openvpn per poter poi garantire il collegamento e poi dopo scegliere cosa chiudere cosa lasciare aperto anche in base agli accessi che devono essere dati ai servizi agli utenti quindi salviamo tutto aperto sull'interfaccia openvpn salviamo e andiamo subito a verificare lo status della nostra vpn andiamo in status come si può vedere il client si è collegato effettivamente in vpn al server e la vpn è attiva se volessimo fare un test più più veloce potremmo praticamente andare ad aprire una pagina web che è presente all'interno della LAN aziendale della sede principale stiamo parlando chiaramente di due ADSL tra virgolette casalinghe quindi i tempi di latenza sono da considerarsi però si può lavorare tranquillamente Zimbra 8 e va solo in modalità HTTPS e dovrebbe rispondere adeguatamente eccolo qua abbiamo l'accesso della della sede secondaria anche a Zimbra questo è chiaramente l'accesso dal client al server avviene possiamo chiudere e provare effettivamente l'accesso dalla sede principale alla sede secondaria eccola qua potremmo tranquillamente andare ad aprire l'interfaccia web del FreePBX e il gioco è fatto